Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta frolla senza glutine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più il tempo di riposo in frigo. Ingredienti sono farina senza glutine o miscela per dolci senza glutine, un uovo e un tuorlo, burro, scorza di un limone, zucchero, vanillina, lievito per dolci e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di limone e lo zucchero. e li facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, l'uovo e il tuorlo, la farina senza glutine o miscela per torte senza glutine, il lievito, la vanillina e il sale. Ed azioniamo il bimbi. per 50 secondi. A velocità 5. Formare un panetto, avvolgerla nella pellicola trasparente e riporla in frigo per almeno un'ora. pasta frolla senza glutine, ideale per crostate e biscotti. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!